Ho deciso che non mi taglio i capelli, perché adesso è un trend, butterfly cut. Ciao sono Barbara e oggi provo questo taglio virale che impazza nei social. Devo realizzare due code come queste e tagliare di netto la stessa lunghezza da entrambe. Variando la lunghezza dei capelli il risultato sarà molto diverso, per cui ora vi mostro cosa succede con una lunghezza come la mia alle spalle. Questo taglio è facile e non leva lunghezza, li scala soltanto senza accorciarli, quindi se volete farli crescere ma dovete tagliarli un po' è ideale. Qui sto raccordando prima e seconda parte perché sono pignola. Adesso li asciugo, passatina di piastra, caos, così sono appena fatti e così invece sono il giorno dopo. Consiglio di valutarli sempre un giorno o due giorni dopo perché si saranno assestati. Mi sembrano molto carini, taglio bello, facilissimo, approvato? Fammi sapere cosa ne pensi, se anche tu respiri metti like e iscriviti al canale così mi ritrovi. Ciao! Ciao!